Reggio Calabria sono le ore 14 e 20 minuti primi del 2 di dicembre 2011 ecco tutta viene bloccata per mettere le stelle, gli addobbi natalizi questo è il corso calibati, pullman bloccati, tutta la mobilità bloccata ma io mi chiedo no, ma è possibile che questi lavori vengono fatti alle 2 e 20? ecco visto dall'altra angolatura tutto il traffico bloccato per mettere gli addobbi natalizi che sarebbero questi fiocchi ecco per un fiocco di stoffa è possibile bloccare persone che escono da scuola, che devono andare ancora a mangiare Reggio Calabria, 2 dicembre 2011